La coppia che ha vinto l'anno scorso, è vero, sui social, è che quest'anno invece ha partecipato su Porto Centro. E' la differenza? Allora, io partecipiamo sui social... Da dove venite? Da quale sono? Allora, io sono di Nola, originario di Nola, però abito a Camposano. Diciamo che sono otto anni che partecipo a questa manifestazione con i miei nipoti. E' stata una sfida, mi hanno sfidato la mia figlia.